La mia sfida è la Scanna, che è nata viaggiando su questa rotta incredibile di 1200 km ed è oggi conosciuta da migliaia di bambini indiani a Tabascom dell'interno dell'Alaska o ai suoi mesi di Iemite e Nubia sulla costa del mare di Bering perché l'abbiamo scritta insieme. Iemite e Nubia Grazie per l'Es Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.